Ragazzi, come da tradizione, se non registro il video due o tre volte non sono io. C'è stato un piccolo entop nella registrazione. E eccoci qua. Giornata pazza la precedente, cerchiamo di beccare un bel po' di bonus nella prossima. Vai con la sigla e poi ne parliamo. E allora ragazzi, neanche il tempo di fare il calcolo della ventottesima, già siamo pronti per la ventinovesima. L'impostazione della programmazione del canale sarà fatta così. Oggi video dei fantaconsigli, domani ci sarà il video dei marcatori e dell'analisi degli arbitri, il file aggiornato e la live alle 18.30 circa, un'ora prima dell'inizio della giornata, ci sarà la live per rispondere ai vostri dubbi. Voi comunque qua sotto nei commenti potete comunque fare delle domande sui vostri magari ballottaggi e oltre me potete anche rispondere voi stessi, cioè darvi dei fantaconfronti qua sotto. Questa cosa si può fare anche tramite un'applicazione, si chiama Fantaballottaggi, vi permette appunto di inserire dei ballottaggi che avete sulla vostra formazione, anche su degli scambi e gli altri fantallenatori della community risponderanno. La utilizzerò anche a fine video, quindi guardatelo tutto perché sono andato a rispondere ad alcuni ballottaggi, magari alcuni sono dubbi simili ai vostri e risponderò in questa maniera anche a voi. Quindi mi raccomando utilizzatela, anzi se inserite già in primis subito questa cosa, a inizio giornata, probabilmente nel prossimo video ci potrete essere anche voi, quindi perché no provate. Ok? Detto questo, andiamo a vedere questa giornata, sperando sia magari ricca di bonus, come detto, anche come la scorsa altro che difese solide, tutte le teorie fatte sulla Coppa Italia, sulla difesa, invece no, abbiamo visto che le squadre fuori casa comunque riescono a ottenere lo stesso punti, anzi la mancanza del pubblico forse si fa sentire, e non solo si fa sentire sugli attaccanti che a volte si emagnano dei gol clamorosi, ma si fa sentire anche sui difensori che fanno degli errori banali, a volte appunto di distrazioni gravi, e regalano dei gol agli avversari. Comunque, comunque, andiamo a vedere questa giornata. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il nostro store, potete dare appunto un'occhiata, trovate anche il link appunto per scaricare da ballottaggi, ve lo metto in descrizione, così potete scaricarla subito, trovate appunto anche il nostro store. Comunque, si parte ragazzi con Torino-Lazio, ok? Subito una bella partita di quelle intense, e attenzione perché sono andato già a controllare alcune designazioni, e appunto per le partite di domani già sono chiare quella di Torino-Lazio e di Genoa-Juve. In Torino-Lazio ci sarà Massa, scanzatevi ragazzi, perché Massa, cartellini gialli a go-go, cioè ci sono più gialli nel sottoacquino che in tutta l'Asia, quindi veramente clamoroso. State attenti, state attenti quindi ai difensori centrali, anche ai giocatori quelli più rocciosi, la munizione se la potrebbero prendere. Ci potrebbe essere anche un calcio di rigore. Se non sbaglio ne ha già dati 8, domani ci sarà comunque l'aggiornamento del file e l'andremo ad analizzare, quindi attenzione all'arbitro. Per quanto riguarda il pronostico ragazzi, la Lazio ha faticato un po' contro la Fiorentina, ha portato a casa una vittoria, ma non senza appunto faticare. Vi ho indovinato il rendimento di Luiz Alberto che l'ha sbloccata lui. Questa volta, su chi punto ragazzi? Potrebbe, attenzione, essere decisivo Milinkovic e Savic. Non so perché, appunto, su di lui questa partita. Dall'altra parte, attenzione invece a Berenguer, potrebbe insediare un po' la retroguardia della Lazio. Ovviamente più schierabili sono sempre, Belotti e Immobile, quelli si schierano a prescindere. Oh mio Dio, Belotti, dipende dal vostro attacco come è composto, ma come detto Massa potrebbe dare un calcio di rigore, quindi essendo lui il rigorista dovete comunque schierarlo. Come scommesse, ragazzi, vado sugli esterni per quanto riguarda il Torino, quindi De Silvestri e Ansaldi eviterei invece quelli in mezzo al campo. Tra i due portieri, ragazzi, è difficile sceglierne qualcuno perché entrambi potrebbero subire gol. Tra l'altro, il Torino mi ha deluso molto la scorsa giornata, 4 gol da Siricu è chi vi sente ora. Per quanto riguarda invece Stracoscia, forse è un po' più schierabile, come pronostico mi aspetto un 2-1 per la Lazio, o potrebbe venire fuori anche un pareggio, un 1-1, un 2-2. Non penso ci saranno valanghe di gol in questa partita, proprio perché sarà molto maschia. Forse ecco, potrebbe uscire invece qualcosa di strano tipo un'espulsione, state un po' attenti. Passiamo invece a Genoa-Juve. Ragazzi, qua non ci sono squalificati, ci sono semplicemente indisponibili, ancora Criscito e Radovanoicci da un lato, che l'indice Ciglio, Alexandro, Demirale e Chedira dall'altro. Attenzione anche alle sostituzioni, soprattutto quelle della Juventus. Beh, Bernardeschi, Douglas Costa potrebbe essere uno dei cambi. In ogni caso, Douglas Costa, ragazzi, voi mettetelo sempre, anche che non è da tutti i tuoi aree. L'abbiamo visto, con pochi minuti a disposizione riesce a fare comunque qualcosa. Non è uno che te la butta dentro, quindi se volete per forza il più tre, magari no. Però l'assist, il buon voto, se lo prende, quindi dipende il vostro centrocampo come è composto. Non dovrebbe giocare più Maturi di terzino, ma torna a questo punto Danilo. Anche se personalmente forse sarebbe meglio utilizzare ancora Maturi di lì, ok? I centrali ancora bene, Delicte e Bonucci. Forse Bonucci un po' più rischio a munizione, Delicte comunque informissime, ragazzi, anche assegnato. Quindi è un momento veramente d'oro per il giocatore. Del genere è difficile consigliarvi qualcuno. A livello di pronostico non mi aspetto un 4-0 come è con il Lecce. Penso che verranno fuori sempre una partita equilibrata. Tra l'altro, Ammarassi e la Juventus ha spesso delle difficoltà comunque. Quindi potrebbe venire fuori, ad esempio, un 2-1. Ok? Un semplice 1-0. Di pala a Ronaldo, ragazzi, si schierano. Ronaldo, perché comunque è sempre nel vivo delle azioni, magari non è sempre lucido, ma comunque le occasioni da gol in ogni partita ce le ha e in più è rigorista. Di pala, ragazzi, è informissima. Si schiera sempre. La scommessa potrebbe essere Iguain, anche da subentrato, perché comunque con le cinque sostituzioni il voto lo prende ed è un attaccante che ha molta voglia di far bene, quindi potete schierare anche lui. E invece le scommesse, quelle proprio da rischio, sono Bernardeschi e Quadrato. Entrambi risultano centrocambisti. Quadrato purtroppo gioca arretrato in difesa, però su quella fascia potrebbero creare qualcosa. Come detto, non mi aspetto chissà quanti gol, ma attenzione, attenzione, perché potrebbe essere una partita pazza. Poi, come detto, in questo periodo le difese commettono diversi errori gravi, quindi attenzione anche da questo punto di vista. Bologna-Cagliari, ragazzi. Per quanto riguarda il Bologna, abbiamo azzeccato perfettamente la partita contro la Sampdoria, anche il pronostico, perché vi avevo detto appunto anche il 2-1, e anche i consigli su Orsolini e Barro. Barro addirittura ha segnato anche da subentrato, anche se è su rigore. Per quanto riguarda, invece, le difese io starei un po' attenti, ragazzi, perché entrambi potrebbero subire qualche gol. L'attacco delle due squadre si comporta bene. Il Cagliari mi ha sorpreso anche abbastanza contro il Torino. Mi aspettavo di certo quattro gol. È tornato Mainggolan il Ninja, ormai dovete metterlo per forza titolare nel vostro centrocampo, se lo avete in rosa. E Pellegrini, ragazzi, Pellegrini, mettetelo sempre, ve l'ho detto. Uomo da 6,5 sempre, praticamente lo prenderà sempre, quindi schieratelo perché giocate centrocampo ormai. Attenzione alla novità riguardo il portiere. In pratica Olsen tornerà alla Roma, ma non sarà a disposizione della squadra, quindi ormai inutile al fantacalcio, ma questo ci fa capire che Cragno ormai sarà il titolarissimo, non avrà più il ballottaggio, quindi volevo sottolineare anche questa cosa. Evitate un po' invece i difensori di tutte le due le squadre, forse i terzini del Bologna si possono schierare, ma sono anche loro forse a rischio ammunizione. Giopetro, Simone hanno migliorato la loro affinità, schierateli ragazzi, ci possono stare, tra l'altro su Simone che gufate gli ho fatto con l'analisi del Cagliari, diciamo prima di questo finale di stagione, vi avevo fatto l'analisi squadra per squadra, nel Cagliari vi ho detto possibile sorpresa, Simone perché potrebbe segnare molti gol in questo finale di stagione, ne ha già fatti tre, compreso quello nel recupero, clamoroso. Passiamo a Inter-Brescia, l'Inter ha fatto, diciamolo, schifo contro il Parma, però si è portato a casa i tre punti, grazie ai centrali difensivi. E proprio lì mi voglio soffermare, perché in difesa non si è comportata bene, non sono comunque segnato due difensori centrali, però non sempre affronti Gervinio, Cornelius e Kulusevski, ok? Quindi dovrebbe, soprattutto da questo punto di vista, Conte stare un po' più attento, e soprattutto spostare Godin a destra, perché a sinistra è veramente inquardabile. C'è ancora Screen è squalificato, quindi penso appunto sarà così con bastoni a sinistra, che almeno col mancino può impostare un po' meglio, anche se non è, diciamo, un difensore super attento, qualche errore lo commette anche lui. Andanovic, ve l'avevo detto, ragazzi, poteva subire col Parma, ne poteva subire anche più di uno, adesso in teoria ci sta a schierarlo, tra l'altro è in casa, va bene, ci sta a ridare appunto fiducia. Il centrocampo, ragazzi, abbiamo, Attenzione a Young, Young, ragazzi, potrebbe essere la scommessa di questa partita, l'assist ci metto quasi la firma, non so perché ho questa sensazione, e potrebbe riprendersi un po' Ericsson, che abbiamo visto, ragazzi, è un po' discontinuo, forse come rendimento, fa una partita eccellente, una meno buona, in questa partita appunto potrebbe forse essere tra i protagonisti. Lautaro, invece, non mi è piaciuto per nulla, contro il Parma, ha bisogno di riscatto, potrebbe farlo, ma potrebbe anche essere sostituito a un certo punto da Sanchez, che ha dimostrato di essere molto più forte da subentrato, ok? Lukaku, ragazzi, si mette, sempre figuriamoci in casa contro il Brescia, difficile invece dirvi qualcuno da schierare nel Brescia, forse per la difesa solo Sabelli, perché spinge molto, magari scappa sempre qualche assist. Per il centrocampo, in teoria è tonale, ma dipende come è composto il vostro reparto di centrocampo, lo potete anche lasciare fuori. In attacco c'è questa coppia Donnarumma-Torregrossa che stanno rendendo veramente bene, più Donnarumma essendo rigorista, ok? Però, ovviamente, parliamo di lega molto numerosa, perché essendo contro l'Inter a San Siro, li potete lasciare fuori, ok? Quindi state attenti. Un'altra scommessa della partita potrebbe essere Sanchez, entrato bene contro il Parma, potrebbe essere uno dei protagonisti, anche a partita in corso. Fiorentina-Sassuolo, ragazzi, a questa partita mi aspetto belle cose. Forse insieme all'Atalanta-Napoli potrebbero essere appunto le partite più voglia. Ormai il Sassuolo, ragazzi, e l'Atalanta regalano un calcio champagne, anche però in difesa subendo diversi gol. E qui mi aspetto una bella partita, perché da un lato abbiamo il ritorno di Chiesa, che insieme a Riveri potrebbero creare non poche difficoltà a quella difesa del Sassuolo, che fa qua da tutte le parti. Quindi, attenzione, loro due schierabilissimi, e mi aspetto buone cose da loro. Non c'è, ovviamente, Vlaovic per squalifica, si è preso un bel rosso per la gioia dei fantallenatori che avevamo provato a scommettere su di lui su quella giornata, anche se vi avevo detto di evitarlo. E Castrovilla, ragazzi, sempre uomo da buone prestazioni e da buone valutazioni, mettetelo, magari non vi porta il bonus, ma che fa? Un 6,5 si butta per, diciamo, arrivare a 72 e spesso vi può anche servire. Per quanto riguarda le difese, invece, starei attento, ragazzi, anche ai portieri. Soprattutto Dragosti, magari, è buono per l'ottica modificatore, ma potrebbe comunque anche lui subire gol. Quindi, state attenti lì dietro anche ai cartellini, ok? Per quanto riguarda, invece, l'attacco del Sassuolo, Boga, ragazzi, o gioca titolare, o gioca, magari, da subentrato, è sempre pericoloso, però magari ti fa una partita da 5 e una da 13,5. Quindi, comunque, lui si va a schierare, anche Caputo. Berardi sono un po' più indeciso, ragazzi, perché è quello, forse, che è meno, un po' meno pericoloso. Comunque, dipende il vostro reparto d'attacco come terzo slot ci può stare. Scommessa a centro campo, il solito di Uricic, che si inserisce, magari vi porta un bonus. Passiamo a Verona, Parma, attenzione, perché qua abbiamo delle difese abbastanza solite, a parte i tre gol subiti col Sassuolo, ma forse il fatto di essere sul 3-1 ha fatto un po' addormentare quel Verona. Quindi, i portieri, secondo me, sono delle buone scelte, non eccezionali, ma dipende dalle alternative, potete anche farci un pensierino. Non ci sarà però Cumbullà, attenzione, all'assenza per squalifica, dall'altra parte, invece, torna Jacoponi, ok? Quindi, c'è questa sorta di staffetta. Lazzovic, ragazzi, ve l'ho detto, ma che giocatore è Lazzovic? Ci ha fatto gol, ha una grandissima partita contro il Sassuolo, io gli darei ancora fiducia perché lo vedo troppo in forma. Dall'altra parte, però, che giocatori sono? Kuloseski e Gervini hanno fatto impazzire veramente la retroguardia dell'Inter e gli si dà ancora fiducia. Dopo, vedete, ho zecchato perfettamente Cornelius che ha fatto comunque una buona partita contro l'Inter, ma si è magnato un gol clamoroso, quindi, vi ho detto di lasciarlo a riposo contro l'Inter, adesso invece potreste dargli fiducia. non penso sarà una partita ricchissima di gol, ma comunque gli attacchi sono abbastanza comunque pericolosi e quindi magari un'occasione da gol per ogni giocatore ci potrà essere, ok? La scommessa, proprio il nome scommessa invece è di Carmine, ok? Per una Lega molto, molto numerosa come terzo slot se non avete alternative valide ci può stare, però come detto è sempre una scommessa. Passiamo invece a Lecce-Sampdoria sfida ragazzi per la salvezza tra due squadre che non mi entusiasmano molto, vado semplicemente sui nomi forse più affidabili dal punto di vista fantacalcistico, mancoso da un lato ragazzi, si può schierare, poi magari vi va bene anche che c'è un arbitro che dà diversi calci di rigore e vi porta il bonus anche in quella maniera. Dovrebbe essere ancora indisponibile Quagliarella, quindi attenzione a questa cosa, e dovrebbero quindi giocare ancora Gabbiadini forse con accanto Bonazzoli che ha segnato la scorsa partita. A centrocampo da un lato vado appunto su Mancoso come detto e Ramirez dall'altro. Il nome scommessa potrebbe essere per il Lecce forse Barac e Petriccione che magari si inseriscono diciamo in attacco e attenzione invece in leghe molto numerose Babacare e Gabbiadini come terzo slot potrebbe essere interessanti perché comunque le difese qualcosa concederanno si ammazzaranno per fare dei punti salvezza quindi potrebbe venire fuori una partita molto disordinata anche nella retroguardia anche se comunque Gabriel soprattutto per una buona parte contro la Juventus aveva fatto delle ottime parate quindi Gabriel Audero forse buono in ottica modificatore meno in ottica imbattibilità. Passiamo invece a Spall Milan il Milan ragazzi è in forma dopo la vittoria contro il Lecce vince anche contro la Roma anche se bisogna dire che la partita non è che sia stata sto granché ok ci sono alcuni uomini i soliti sui quali puntare sono Romagnoli ed Hernandez loro quasi sempre buone valutazioni mi è piaciuto anche Kier devo dire mi è dispiaciuto contro la Roma e Donna Roma ci sta anche schierare il portierone perché comunque è un buon momento in ottica anche modificatore non è male centro campo attacco invece ci sono più dubbi perché c'è la Noglu abbiamo visto che anche con Kessi in campo ha tirato lui il calcio di rigore segnale particolare comunque si va a schierare in questo momento positivo dal punto di vista fantacalgistico non ha brillato come prestazione Castiglieco invece comunque se non avete alternativa valide ci può stare Jack Bonaventura non è scommessa per la partita Rebic ragazzi anche lui sembra la benedizione di Ibrahimovic gli arrivi anche a distanza quindi confermatelo in questo periodo diciamo di forma per lui dall'altra parte invece della Spal difficile consigliarvi qualcuno se non Petagna come terzo slot in lega molto numerose e basta basta ragazzi perché la Spal la dietro cosa io ho visto fare contro il Napoli cioè lasciavano gli inserimenti veramente disordinati proprio per questo mi aspetto come pronostico che il Milan possa trovare più di un gol ok potrebbe venire fuori un 2 a 0 un 2 a 1 è vero che gioca in casa la Spal quindi avrà magari più concentrazione però ragazzi qualcosa gli concederanno quindi attenzione a questa partita va bene ricordo che c'è anche squalificato Felipe quindi là dietro potrebbero dare ancora più spazio gli attaccanti rossoneri passiamo ad Atalanta Napoli sfida molto molto interessante anche perché l'Atalanta è una squadra che attacca tantissimo segna molti gol vi ho detto di schierare Zapatamuri e entrambi vedete visto gli ex come sono stati decisivi vi sconsiglio ragazzi vi sconsiglio di schierare questa giornata Malinoski ora direte ma Carmi aspetta aspetta sconsigli Malinoski c'è qualcosa che non va sì ragazzi è squalificato solo per questo scusate la gag pessima per il resto ragazzi sarà una partita molto interessante perché il Napoli si chiude molto bene l'Atalanta attacca molto bene però concede anche dietro e il Napoli lo sappiamo è forte in contropiede quindi verrà fuori una partita con fuochi d'artificio magari con diverse occasioni anche sprecate comunque ci saranno quindi schierate volentieri gli attaccanti ci sarà il ballottaggio sempre Muri e le zapata vedremo poi se giocherà quale dei due colombiani giocherà il nome interessante che mi intrigava per l'attacco è Ilicic ragazzi potrebbe fare una buona prestazione invece il nome scommessa potrebbe essere del Napoli e parlo ragazzi di Zelis che ha riposato la scorsa partita potrebbe essere questa la giornata in cui torna magari ricco di energie con appunto addirittura un bonus attenzione alla questione Calleon perché oltre ad averci ormai confermato che rinnoverà almeno per questo finale di stagione cosa importantissima per i fan allenatori che l'hanno preso ma io voglio sottolineare la partita che ha fatto contro la Spal dove secondo me Gattuso ha capito come sfruttare a pieno le sue doti ovvero con i classici movimenti sul secondo palo ormai consolidato l'ha fatto più di una volta e ha anche segnato proprio in una di queste occasioni quindi sfrutteranno questa cosa attenzione a José Maria Calleonne in questo finale di stagione potrebbe essere la svolta ragazzi una carta in più per i fan allenatori attenzione invece alla difese ragazzi difese rischio munizioni ci saranno difficoltà magari ti esce quello che ti fa la buona presenza e che addirittura ti segna da calcio d'angolo ma state attenti anche ai portieri buoni in ottica modificatore di difesa pessimi in ottica imbattibilità almeno sono comunque un grosso rischio passiamo a Roma Udinese l'ultima sfida si gioca comunque di giovedì ragazzi questa giornata sarà abbastanza lunga attenzione alle difese ragazzi hanno sempre il rischio di fare qualche errore grave quindi state un po' attenti dopo la prestazione un po' opaca di Spinazzola perché faceva buone cose e poi sembrava un po' spompato dovrebbe tornare Kolarov e potrebbe essere lui ve lo dico si conferma portiere da modificatore di difesa ma che comunque contro la Roma potrebbe subire almeno due gol quindi state un po' attenti ai portieri per quanto riguarda invece centrocampo e attacco Zeko va schierato assolutamente attenzione dall'altra parte all'exo Kaka ma sempre più in forma Lasagna con la sua velocità De Paul come quarto slot se non avete alternative con partite più semplici per quanto riguarda invece la tre quarti della Roma schierate secondo me va schierato Mkhitaryan attenzione a Perotti e Under entrambi comunque in ballottaggio c'è l'assenza attenzione al centrocampo di Veretun nella mediana e di Pellegrini sulla tre quarti assenze secondo me un po' pesanti ok quindi state un po' attenti il nome scommessa potrebbe essere Under anche da subentrato potrebbe magari inventarsi qualcosa va bene adesso vi vado a mostrare i fantaconsigli ai quali ho risposto i ballottaggi ai quali ho risposto nell'applicazione i fantaballottaggi non fate troppo caso a sti capelli scombinati e allora metto anche gli occhiali per vedere meglio qui c'era il dubbio Perotti Tonali se cercate il bonus Perotti se vi accontate una buona prestazione potete provare Tonali ma in cerca di bonus si fa magari su Diego Perotti qua invece era un dubbio due su tre qua sono andato un po' controcorrente perché vabbè Liberi ragazzi l'ha dimostrato in forma non si può schierare e poi sono andato su Insigne lasciando fuori Bogano nonostante venga da una doppietta perché Insigne contro la difesa dell'Atalanta qualcosa secondo me la può fare poi tra Caisetto e Gervinio vado su Gervinio spettacolare anche contro l'Inter giocatore veramente formidabile tra Petagna e Gervinio anche qui vado su Gervinio potrebbe fare cose interessanti contro il Verona e qui invece ero più in difficoltà sono andato su Audero al posto di Meret perché Meret comunque è sempre il discorso Meret o Spina era contro l'Atalanta meglio non rischiare poi tra Insigne e Belotti secondo me schierabili tutti e due ma se devo scegliere uno vado su Belotti che è anche rigorista ok questi erano i ballottaggi per questa giornata scriveteli qua sotto gli altri comunque rispondete anche voi stessi a quelli degli altri fantallenatori così come fa l'applicazione Fanta Ballottaggi vi lascio il link in descrizione per scaricarla mi raccomando detto questo vi auguro una buona giornata anche questo video di Fanta Consigli è durata una marea spero siate arrivati fin qui anzi se siete arrivati fino a questo punto ok lasciate un hashtag fino a questo punto va bene vediamo chi c'è arrivato così capisco chi guarda tutto il video e chi no va bene seguitemi anche sui social link in descrizione e ci vediamo domani con il video dei marcatori e del file arbitri e poi anche la live va bene ciao ragazzi buona fortuna a tutti grazie a tutti Grazie.